L'accordo c'è. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno trovato questo venerdì un'intesa per fissare un tetto massimo al prezzo del petrolio russo dopo il via libera di Varsavia. Lo ha fatto sapere da Bruxelles il rappresentante polacco. Nello specifico il tetto è stato fissato a 60 dollari al barile, un livello che sarà rivisto ogni due mesi. La Polonia, che aveva chiesto un prezzo più basso, ha ritirato le sue obiezioni. Grazie.